Partenza a Singhiozzo per i nuovi vaccini contro il Covid, un disservizio tecnico del sito delle poste, dove i vaccinatori devono inserire i dati di chi si sottopone all'immunizzazione, ha di fatto rimandato le operazioni. Almeno a Pescara, dove si è preferito non utilizzare la registrazione manuale e attendere la riparazione del guasto, garantita per domani da poste italiane. Abbiamo chiesto alle poste quando avessero provveduto a sistemare la situazione e hanno detto per domani. Nessun problema invece per il vecchio siero, anche se sono state appena una ventina le persone che si sono recate oggi al centro vaccinale dell'ex Lidl in via Colle Renazzo. Il Ministero della Salute raccomanda delle categorie che possono farsi questo vaccino bivalente, che copre sia il vecchio ceppo del Covid che quello della Omicron BA1. Ecco, perché molti pensano che mi copre da tutte le varianti Omicron, non è così, perché la BA1, poi c'è la BA2, 3, 4 e 5. So che negli Stati Uniti già si vaccina contro la 4 e la 5, perché la Food and Drug Administration ha scelto una cosa diversa rispetto a quello che ha fatto l'Europa. Gli ultimi vaccini per gli Omicron 4 e 5 non sono stati ancora presentati all'EMA, per cui non hanno ancora avuto l'autorizzazione e per questo motivo non vengono ancora effettuati qui in Italia, perché ci vuole autorizzazione sia dell'EMA che dell'AIFA per poter fare il vaccino in Italia. È vero che alcune persone stanno aspettando questo nuovo vaccino Omicron e probabilmente qualcuno aspetterà anche il prossimo vaccino, ma il problema della scarsa affluenza è dovuto al fatto che quest'estate abbiamo avuto tantissimi, ma tanti, tanti casi positivi, per cui le persone si sono immunizzate e hanno fatto la quarta dose in maniera naturale. L'Abruzzo è una delle prime regioni ad avere iniziato la somministrazione del vaccino aggiornato. Nella provincia di Chieti e nell'Aquilano, esclusa l'Aquila città, è necessario prenotarsi. A Pescara e Teramo, invece, l'accesso è libero, purché naturalmente si appartenga alle categorie indicate. Tutti gli ultrasessantenni, le persone al di sotto i 60 anni che hanno patologie gravi, patologie cardiologiche, ipertensive, diabete e immunodeficienze, e i sanitari che operano nell'ambiente sanitario sotto i 60 anni, e le donne in gravidanza che possono fare questo vaccino come quarta dose se si trovano in gravidanza. Questo vaccino si può fare da 12 anni in sopra, quindi i bambini sotto i 12 anni non possono fare questo vaccino e dai 12 ai 60 anni devono avere delle fragilità importanti. Questo è per un periodo limitato, secondo lei poi verrà aperto a tutti? Non abbiamo ricevuto indicazioni in merito. I vaccini sono tutti e due validi, perché tutti e due riducono la potenzialità della malattia. Il consiglio è vaccinare chi non ha fatto la quarta dose e non ha avuto il Covid come quarta dose, deve vaccinarsi. Bivalente o normale? Adesso c'è il bivalente, quindi facciamo questo, ma se qualcuno non ha fiducia o può anche fare quello normale, che ha comunque sempre avuto un'azione efficace sulla gravità della malattia.